Alla fine è stato bello, a me è piaciuto tanto, quando i due fidanzati che erano i personaggi principali si sono ritrovati, ma secondo me non era lo stesso che la prima, però secondo me ha vinto l'amore quando i due non si sono ammazzati, sono tornati a essere unico. Quando erano in camera, la prima volta che sono accorti di essere sottopiati, quando stavano facendo l'amore, lui è il ragazzo quello che faceva più casino, andava sul palco, la prima volta proprio appena, lei era nella doccia e lui mi ha colpito di più, adesso come si comporterà, interessante. Sicuramente, stavamo dicendo prima, la scena della festa in cui tutti saremmo voluti essere presenti, quando prende fuoco la casa quasi, invece si aprono gli erogatori dell'acqua e lì, molto Ibiza ci è piaciuto. Tutti d'accordo. Tutti d'accordo. Quella dove tutti si ritrovano dentro al container. Alla casetta della piscina. La scena di sesso quando il doppio si mette la mano sul vetri. Secondo me è stato eccezionale il mischiare i generi, il regista, è veramente humus, in quello è stato veramente stupendo. Probabilmente la scena madre quando la bionda dice una cosa intelligente si scopre che non solo è bella ma è anche intelligente. Mi ha colpito la tipa, dopo non mi parleranno più comunque, la tipa con i cappelli rossi che anziché, veramente, che anziché così cercare di uccidere l'altra sé, invece ci ha fatto amicizia. Beh sicuramente quando è entrato 007 è stato sicuramente emozionante ecco perché nessuno se lo aspettava, quindi tutti quanti ci siamo destati di colpo, abbiamo detto 007, è stato veramente bello. Abbiamo visto la signora in giallo, abbiamo detto qui ci scappa il morto, infatti... Ciao posso chiederti una cosa? Non sono mai visto il film, come non hai visto il film? No te lo giuro sono andato a prendere la mia tipa ma ho cacciato il film. Ah ok vabbè. Grazie a tutti.